Panoramica di Consonno Ciao a tutti, mi trovo nella piazzetta principale di Consonno. Grazie a tutti. Siamo in mareto. E là, qua vengono su a fare anche i rally. Queste che si vedono davanti sono le sale da ballo, erano. Era la discoteca. Erano tutte sale esterne che facevano da discoteca e sale all'aperto estive, estate, facevano in un ristorante. Grazie. Sello sfondo c'è la chiesetta di Consonno. Grazie. 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 Grazie.